Vi ricordate di me? In dieci anni mi sono sempre tenuto in forma per un attore importante. Pronti ragazzi? Dai, proviamo il duello. Faccio molto allenamento e a tavola ogni giorno c'è olio cuore che mi aiuta a stare in forma. Cuore, olio di semi di mais dietetico. Gustoso, leggero. Solo dal cuore del mais. Olio cuore, mangiar bene. Per sentirsi in forma. Nino, sai ancora saltare la stagionata? Ma certo. Come sempre! Olio cuore, vai! Olio cuore! Olio cuore! Olio cuore due! Vai! Vai! Olio cuore due! Anche io mangio olio cuore con olio cuore! E uso carta Fox Regina. Marona, è venuto meglio prima. Sei emozionato? Sì. Janne. Sì, grazie. Grazie.